Presidente, una sinergia importante che pone le basi per un futuro sicuramente con un progetto di lungo respiro? Sicuramente questo è il nostro obiettivo, un progetto a lungo respiro e non finalizzato a una semplice annualità come dicevo anche poc'anzi, il progetto prevede quindi un continuo afflusso di giovani ragazzi, una continuità negli anni, squadra società nostra giovane ma con progetti sicuramente professionali applicabili ovviamente in un contesto dilettantistico. Crediamo fortemente nell'innesto di giovani ragazzi ma questo è il futuro credo per queste piccole entità, l'innesto di avvalersi di giovani ragazzi. Quale migliore occasione per creare questa sinergia con la scuola calcio di Davide Piero riconosciuta negli anni per la professionalità e per la bravura dei ragazzi? Quindi sicuramente il nostro obiettivo non è tanto finalizzato all'obiettivo sportivo che anche fa piacere perché sicuramente lo sport significa competizione ma una competizione è un progetto sportivo dove chiaramente molto entra il sociale. Il nostro progetto condiviso anche da chi ci supporta anche economicamente da sponsorizzazioni importanti eccetera è stato condiviso proprio perché il nostro progetto prevedeva l'innesto di tanti ragazzi, togliere tanti ragazzi e farli divertire insieme con noi. Quindi togliere dalla strada anche se oggi ormai come poteva essere nella mia generazione si giocava per strada cosa oggi difficile ormai ci si avviene solo e sempre di scuole calcio. Ma crediamo che questo progetto che stiamo portando avanti con Davide Piero con questa scuola calcio sia sicuramente qualcosa di importantissimo che ci farà crescere una società. Mentre lo Sporting Ponte Cagnano è una società di 4 anni quindi giovanissima ci si avvala anche dell'esperienza di mister Davide che sta nel settore da 35 anni con un bacino di ragazzi bravissimi e quindi da supporto sicuramente al nostro progetto. Questo è il nostro obiettivo. Applicare, io l'ho sempre detto già dall'anno scorso quando sono entrati in società, quello di mettere in questo contesto la nostra professionalità in un contesto dilettantistico. Io che vengo da un settore giovanile professionistico nel passato sentire queste cose mi riempie di gioia perché finalmente incomincio a capire che c'è qualcuno che ha capito, scusatemi il gioco di parole, come si fa il calcio. Il calcio si parte dai giovani. Bisogna credere in questo progetto perché è un progetto sicuramente valido. Bisogna far crescere questi giovani in un ambiente sano soprattutto, aiutarli, però devono capire questi giovani che c'è bisogno anche di molto sacrificio e lavoro. Però è un progetto che va condiviso, va condiviso pienavente e io sono convinto che lo Sporting Ponte Cagnano, che ha avviato questa strada in sinergia con lo Sporting Vicenza, possa raggiungere sicuramente quelle aspettative che hanno nel proprio programma futuro. Che cosa è cambiato rispetto al passato per i giovani? E' cambiato poco, io non vorrei essere polemica, però si investe poco nei settori giovanili, si investe veramente poco nei settori giovanili e questi progetti vanno valorizzati, vanno incentivati, vanno sostenuti. Molte società pensano, ecco, credo che anche nel calcio direttantistico vige il vincere a tutti i costi, a discapito di quello che sono poi le realtà giovanili che sono valide. Io non vorrei andare controcorrente, però noi abbiamo tre under nei campionati di promozione di eccellenza, dipendesse da me ne metterei qualcuno in più, molto onestamente ne metterei qualcuno in più. Anzi, anzi, forse qualcosa al di là del consentito, metterei anche un limite per quelli che hanno una certa età. Mi spiace, ma lo farei. Simone Perro, come prima Davide Perro ha detto, parte la Vicenza 4.0 e parte con un accordo con lo Sporting Ponte Cagnano, che cosa significa, che valore ha? Allora, sicuramente, come già hanno detto tutti gli altri, è un progetto a lungo termine importante per lo sviluppo sia calcistico che umano dei ragazzi, in quanto le nostre idee combaciano appunto sia per quanto riguarda la continuità calcistica, ma proprio perché non deve mai mancare quell'apporto umano che può permettere al ragazzo di crescere in un ambiente sano. Quello che mi preme soprattutto sottolineare è che spero e mi auguro che questa sinergia possa essere un trampolino di lancio per l'attività sportiva territoriale di Ponte Cagnano-Faiano e che si possa finalmente superare quei particolarismi che ad oggi ostacolano proprio lo sviluppo calcistico di Ponte Cagnano-Faiano. Da sempre, noi da tanti anni, abbiamo provato a creare sinergie all'interno proprio del paese che possano, come appunto detto prima, migliorare il calcio a Ponte Cagnano, ma questo ci è sempre stato negato sia per tanti motivi. Quindi la cosa che mi auguro fortemente è che questo progetto possa essere appunto un trampolino di lancio per unire, unificare tutte le realtà calcistiche di Ponte Cagnano-Faiano. Noi abbiamo affidato allo Sporting Ponte Cagnano una squadra formata da 15-16 ragazzi, tutti validissimi, che tra juniores e prima squadra dovranno appunto ritagliarsi i propri spazi per poter emergere e per poter continuare a divertirsi nel campionato di promozione che, come tutti sappiamo, è un campionato molto impegnativo e che vede l'obbligo della presenza degli under in campo. E niente, scelta migliore di questa credo che non poteva essere fatta perché lo Sporting Ponte Cagnano crede e cerca di valorizzare i ragazzi che un domani saranno appunto il futuro sportivo di Ponte Cagnano-Faiano. Ma per lo Sporting Ponte Cagnano una crescita importante, una sinergia con una realtà storica, territoriale. Per noi che siamo in realtà giovane, diciamo, prendiamo una grande esperienza. Oggi una sinergia con una realtà che ci può dare solo un grande rilancio per il futuro. Diciamo che il nostro augurio è che i giovani che oggi, grazie allo Sporting Picendia, sono approdati allo Sporting Ponte Cagnano è solo un trampolino per loro per arrivare nel calcio che conta. Diciamo che il nostro progetto è nato quattro anni fa, oggi per me è arrivato il primo tassello importante. Dopo tanti obiettivi raggiunti perché chiudiamo una sinergia con una realtà storica che può farci migliorare. Ci può far migliorare, può far sì che sul territorio si possano aprire nuovi spiragli, anche se i giovani devono capire che il calcio parte dalla base dell'aggregazione. Quindi è un divertimento con lo spirito che io sono cresciuto perché io mangiavo pane e calcio. Diciamo che questa passione l'ho portata anche da genitore. Sono ancora tra i campi a battagliare, soprattutto a far sì che questi giovani possano andare nel mondo del direttantismo e divertirsi sui campi di calcio con la giusta foga e con la giusta determinazione. Ma io spero che tutti questi giovani che sono approdati allo Sporting Ponte Cagnano ribadisco sia solo un anno transitorio per far sì che loro possano entrare nel calcio che conta oppure una buona base per il futuro per lo Sporting Ponte Cagnano. Diciamo che io voglio ringraziare la società Sporting Lab Picentia che per me è stata una seconda famiglia da piccolo, quindi sono realmente contento di questa sinergia. L'agurio è di ripartire dal calcio giocato, andare a finire sugli impianti, cercare di stimolare anche l'amministrazione cercando di dare il prima possibile a questo territorio una struttura degna per fare calcio e per far crescere i giovani del territorio. Pasquale Gallo che importanza ha un accordo simile per il calcio giovanile e per il calcio dilettantistico del territorio? Ma guardi, mi sembra, io credo molto nella fatalità delle cose perché la vita mi ha riservato le cose più belle quando sono capitate per caso. Io ero venuto per salutare Davide per sapere come stava, non lo vedevo da dieci anni quindi sono passato anzi in un momento in cui lui mi ha detto ma a quest'ora non c'è mai nessuno, ci trovi per caso e infatti mi ritrovo ad aver piacevolmente ascoltato due o tre interventi tutti importanti oltre a quello del presidente della società Sporting Ponte Cagnano di promozione e in particolar modo quello che il mio amico trentennale Davide Piero ha detto mettendo il punto su alcuni spunti dando alcuni spunti, ma questi spunti non sono spunti, sono cose che dicendole 35 anni fa oggi sono realtà ma sono realtà mondiali. Questi ragazzi oggi nel campo dilettantistico una volta giocavano i trentenni, quelli di paese dovete sapere che in Germania, che è il paese principale in cui lavoro, perché sulla Germania si dicono tante stupidità sia sociale, sia politiche, sia sportive, è il popolo migliore al mondo secondo me in quanto a capacità in Germania io ero presente al contratto di Timo Werner che oggi è il centravante della nazionale e tutto lo conosce ma io sei anni fa, è un 96, sei anni fa venendo dalla Germania ho detto ho conosciuto un sedicenne che ha fatto contratto con lo Stoccarda e da domani è titolare. Stiamo parlando della Bundesliga A 16 anni. Ora adesso già è un passo avanti aver sentito dire da Davide che la scuola Sporting Vicenza che effettivamente io confermo essere quella che più ho frequentato quando mi sono interessato dei ragazzini e infatti il via vai con la Juventus è stato notevole, non solo con altre società e devo dire che Davide veramente è stato il pioniere qui in questo territorio e probabilmente io lo dico e spero che succederà, merita tanti successi ancora perché di calciatori veri che io ho visto qui ne ho visti pochi mettendo insieme tutte le altre scuole calcio con il rispetto di tutte le altre scuole calcio che davano di prodotti ma la quantità di prodotti ottimi ed erano buoni per la Juventus e figuriamoci quando la selezione era massima era veramente e oggi mi sono ritrovato a sentire queste parole ma soprattutto per un progetto per il quale io avevo intenzione di parlare con Davide nel senso che questi ragazzini che crescono ai migliori possono avere lo sbocco naturale in una società di promozione, di eccellenza perché dovete sapere che se un sedicenne se è bravo e può giocare in Bundesliga A non capisco perché un sedicenne non possa giocare in eccellenza italiana se si fa questo tipo di discorso diventerà la sinergia più importante almeno del centro sud per quanto riguarda settore giovanile e calcio dilettantistico ecco questo ci tenevo a dire e aggiungendo poi gli auguri sinceri perché io a questa società sono particolarmente legato anche perché i ragazzi che io poi come osservatore Juventus dell'epoca per 30 anni ho fatto vedere non mi hanno mai fatto fare, quanto meno brutto figura grazie a tutti Grazie a tutti.